Un caro saluto da Maria Giuliaci, il tempo è previsto fino al 30 aprile. Bene, ci saranno due festività importanti, quelle pasquane e il ponte della liberazione. Bene, ci saranno solo tre giorni piovosi, quindi diciamo festività non compromesse dalle piogge. Ma andiamo con ordine tre fasi, una prima fase, Pasqua e Pasquetta. Pasqua solo con un po' di nuvole quasi ovunque per l'avanguardia di due perturbazioni. Una in arrivo dalla Spagna, un'altra in arrivo dal Nord Africa, quindi solo nuvole. Ma nel pomeriggio di Pasquetta già alcune piogge sulla Campania e sulla Lucania. Nella sera della Pasquetta piogge su Piemonte, Liguria, regioni centrali, la Calabria e le isole maggiori. Forti venti di scirocco su tutti i mari meridionali, in particolare sulle isole maggiori. Le piogge saranno accompagnate probabilmente da sabbia portata dal deserto. E quindi evitate di lavare le macchine, tanto non servirà. Seconda fase, tra il 23 e il 25, le due perturbazioni salgono la penisola. Piogge al centro-nord, su quasi tutto il centro-nord tra il 23 e il 25. E in particolare il 23 piogge forti sulle regioni di nord-ovest, anche sotto forma di temporali. Il 24 ancora piogge sulle regioni di nord-ovest. Il 25 piogge sulla Sardegna, ma la perturbazione, le due perturbazioni, si allontanano. Nevicate sulle Alpi, il 23 e il 24, a quote superiore a 1.600-1.800 metri, con accumulo tra i 10 e i 15 centimetri. Temperature al di sopra della media, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle regioni meridionali, per effetto dei forti venti di scirocco e a partire dal 25 anche per l'arrivo dell'anticicolone nord-africano. Una terza fase tra il 26 e il 30 di aprile. Bello su tutta l'Italia, le temperature al di sopra della media, che si verificheranno tra il 23 e il 25, fino a valore di 26-27 gradi, tenderanno a scendere tra il 26 e il 30, perché dapprima al 26 ci sarà ancora l'africano, ma limitatamente alla regione meridionali, e poi a partire dal 27 arriverà invece l'anticicolone dell'Azore Piomite, quindi le temperature tenderanno a scendere, a riportarsi su valori gradi. Insomma, un bel periodo tra il 26 e il 30 potrebbe essere la premessa, perché anche il primo maggio possa essere con il bel tempo. Termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.